Manderemo una lettera, scriveremo, il governatore Maroni lo farà sicuramente nei prossimi giorni e fortunatamente potrà dare atto di un risultato che comunque oggi io conto e sono sereno di aver in qualche modo raggiunto e cioè quello effettivamente di non rischiare che le regioni siano in qualche modo rappresentate dai soli stati con tutte le problematiche che questo comporta perché la linea di azione, questo nuovo modo anche di vedere lo strumento della programmazione ha nelle regioni non solo la necessità di una partecipazione ma di dare un contributo al piano d'azione e quindi l'8 e il 9 non solo quindi inviteremo tutte le regioni ma daremo anche atto che effettivamente oggi è comunque stato raggiunto un obiettivo forse talmente innovativo da essere quasi unico rispetto a tutte le altre azioni, altri programmi che sono stati posti in essere fino ad oggi perché viene certificato questo ruolo fondamentale e determinante di tutte le regioni.